Il grasso sulla pancia per molti è il più ostinato da eliminare e sapete perché? Perché è una maledizione! Il corpo dimagrisce nell'ordine inverso di come ingrassa e siccome la pancia è il primo posto dove si accumula adipe e anche l'ultimo da cui il corpo brucia i grassi. Vedi che è una maledizione! In ogni caso ho qui una soluzione. Ecco 10 cibi per avere la pancia piatta e tonica. Subito sgonfia, senza aria e col tempo anche magra. Il primo alimento è la mandorla. Tutti grassi buoni, monoinsaturi, riducono l'appetito e aumentano una sazietà. Poi ananas. A zero grassi, pochissime calorie, carboidrati, vitamina C, enzimi digestivi, un perfetto dessert light. Il nostro classico carciofo ha poteri detox e diuretici, elimina quindi liquidi e tossine, causa di peso e gonfiore. I saporiti e preziosi asparagi contengono inulina, una fibra alimentare saziante e abbassano la glicemia. Il ricco avocado è ipocalorico ma super nutriente grazie a vitamine e acidi grassi insaturi che aiutano a dimagrire. Il profumato basilico. Il basilico riduce l'ormone dello stress, il cortisolo, noto per far ingrassare. Il top nelle diete limone. È dimostrato, bere acqua tiepida e limone al mattino stimola il metabolismo. Il super idratante cetriolo, potente diuretico, antiossidante, ha poche calorie ma è molto nutriente. Gli spinaci. La clorofilla degli spinaci riduce la fame nervosa del 95% e fa dimagrire del 43% più in fretta. E 10. La barbabietola. Cruda negli estratti tiene bassa la glicemia e la pressione del sangue. Mangiando questi 10 cibi ogni giorno a rotazione è possibile sostenere il metabolismo e stimolare il potere bruciagrassi del corpo. Per dimagrire i punti difficili il segreto è la costanza nel mantenere abitudini alimentari sane e dimagranti come queste. Mangia bene e perdi peso naturalmente. Guarda i link in descrizione ai miei libri ed ebook per dimagrire e stare in forma sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!